Oggi la struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio è una realtà, una realtà che è stata istituita con la legge di bilancio del 2019 che ha iniziato ad operare a fianco diciamo di una comittenza pubblica sia dell'amministrazione centrale sia degli enti locali per rafforzare il proprio ruolo e per una migliore qualità dell'edificio pubblico che deve essere e sarà un elemento fondamentale nelle nostre città per ogni cittadino. L'Officina per la rigenerazione del immobile pubblico nasce con l'obiettivo di valorizzazione di quelle che sono le competenze ma le buone pratiche ma soprattutto le eccellenze dell'Agenzia del Demanio che guarda verso l'esterno guarda come può guidare un percorso anche di rigenerazione del patrimonio e supportare i futuri progettisti in questo percorso. Dall'altro aprirsi a un ecosistema per l'innovazione che sia in grado di supportare l'Agenzia e la struttura per la progettazione nella sfide che ci si pongono davanti come le sfide del cambiamento climatico ma anche come il recupero di un patrimonio bellissimo e splendido che deve tornare ad essere accessibile per tutti e soprattutto per le future generazioni.